strategia oggi platino platino un movimento ribassista su platino un mordi e fuggi ribassista in questo momento il platino sta rimbalzando però insomma siamo appunto vicino a un livello di resistenza quindi short ingresso 982 dollari per per oncia stop 988 un 6 dollari sopra all'oncia e un 8 dollari sotto il target 974 dall'inizio qui dalla dall'ingresso quindi è con un mordi e fuggi insomma abbastanza rapido per vedere insomma se il livello resistenziale fa il suo fa il suo dovere grazie a tutti